Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Diodin Come potete vedere non c'è il video perché come sapete Raigin non c'è e mi fa schifo vedermi in telecamera Quindi niente video Bene, detto questo il video di oggi sarà un po' particolare come avete letto dal titolo Perché andrò a recensire le grandi linee dei giochi MMORPG che a parer mio sono molto belli Dato che li ho giocati per un po' e mi sono piaciuti abbastanza Detto questo iniziamo subito col video Il primo gioco che andrò a recensire è Hellsworld Il gioco in sé è molto bello, è un gioco in 2D a scorrimento orizzontale E come potete vedere dalle immagini il gioco in sé ha molti personaggi e molte classi In quanto come potete vedere dalle immagini che passeranno adesso Ogni personaggio avrà le proprie trasformazioni In quanto come potete vedere questo personaggio che adesso c'è è Hellsworld Hellsworld avrà le sue diciamo 3 pre-evoluzioni Chiamamolo come un Pokémon E le sue evoluzioni finali Ovvero quello che ho fatto io per esempio Ho fatto l'Infinity Sword E' molto carino in quanto alla scelta di questa propria via che puoi percorrere Ovvero di poterti creare il personaggio che più ti piace Questo gioco è basato molto sui dungeon e sulle missioni In quanto si può seguire sia la storia Cioè si fa seguendo la storia normale Si potranno accedere a dei dungeon Che potremo fare o da soli se siamo abbastanza OP Oppure possiamo decidere di fare con un gruppo Che potrà essere un gruppo creato da noi Oppure un matchmaking Ehm Che Di persone sole come noi che stiamo cercando da soli il matchmaking Beh Detto questo Ci sono delle mount bellissime Le mount che sparano Cosa che negli altri giochi non ci sono E' fighissimo Il PvP è presente Si può fare il PvP 1 contro 1 3 contro 3 E mi pare Non mi ricordo Ehm Il gioco è un mezzo pay to win Perché Come dire Non devi per forza Pagare Per essere il più forte Perché comunque con un buona pazienza Le armi si trovano E oppure si possono comprare A prezzi modici Non troppo costosi Però per le mount Se vogliamo mount che durano più giorni Durano per sempre O per più giorni Bisognerà spendere un po' di soldini Il gioco in sé è molto molto bello I disegni sono bellissimi Solo che io ci ho capito pochissimo Ci ho giocato così velocemente da non aver capito un cazzo Però è tutto Tommaso E' molto bello come gioco Il secondo gioco che andrò a recensire è Tera Tera è molto molto bello A differenza di Airsward Sei libero di andare dove vuoi Sei libero di andare dove cavolo ti pare Puoi girare per la mappa senza una mea I personaggi sono molti Ci sono anche molte classi E ci sono anche classi Prettamente per un tipo di Diciamo personaggio Ad esempio Ci sarà il ninja Che come potete vedere dall'immagine Lo potrà usare solo questa Tipo di Loli Mentre Quella col tirapugni Potrà essere utilizzata da Questa Questa persona Ed è molto bello Perché appunto Le Le classi sono molto molto fighe Le mappe del gioco sono Molto 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 grandi E quindi certe volte Te perdi E non sai dove devi andare Certe volte ti scocci anche Di fare Avanti e dietro Anche avendo la mount Ovvero Cavallo E cose che puoi avere Che però devi pagare Per avere Il cavallo no Te lo danno di base Però se vuoi Tipo i dragoni Le cose che volano Mi sa che devi pagare Però Beh Non fa niente Possiamo sorvolare Le mosse Dei personaggi Sono fighissime E la cosa figa E che puoi schivare Gli attacchi Dei mostri Sia dei mostri Che degli avversari In quanto avrai La mossa evasiva Puoi avere delle mosse evasive Che fai in modo Che tu possa evitare Gli attacchi Che ti possono venire tirati Da un boss E da un altro giocatore E questo è figo Il gioco si basa Soprattutto su Missioni E dungeon In questi dungeon Ti verranno date Armi potenti Armature Però in generale Facendo anche le missioni Ripetibili Queste ripetibili Potremmo avere Dei token Che potremmo spendere Per comprarci Delle armature Forti Gioielli Eccetera Quindi Anche questo è un mezzo Pay to win Perché comunque Dovresti pagare Solo per avere Le Cioè le Le mount Non lo so Se andando avanti Scoprirò nuove cose Però Diciamo Al momento Sono livello 39 Quasi 40 Perciò Andando avanti Forse Scoprirò altro I dungeon Sono belli Perché sono abbastanza Lunghetti E i boss Se fate i dungeon Da soli Sono Boss praticamente Sono imbattibili Cioè E' un Una bestemmia totale Infatti si consiglia Di fare il dungeon A minimo 4 o 5 persone Perché comunque Sono Belli tosti I boss E poi non è che ce n'è uno Ce ne sono Anche due o tre Certe volte Anche di più Sono mini boss Prima di arrivare Al boss finale Che te fa un culo Quanto Una capanna Però Facendo l'ingruppo E' semplice Al momento Ci gioco Ed è molto Molto bello Infatti mi sto appassionando Molto E Detto questo Possiamo passare al prossimo gioco E come ultimo gioco Abbiamo For story Ultimo Perché A vista mia E' quello Più Bello E che mi ha colpito di più Infatti E' molto simile a terra In quanto sei libero Di andare dove vuoi Ti danno la mount di base Però poi Pagando Cioè puoi avere quelle più veloci Le classi Ci sono Non troppe Ne poche Sono normali Che sono Cavaliere Evocatore Arciere Guerriero Sacerdote E mago Sono sei In questo gioco Vi dico Il pvp E' costante Ovvero dal primo momento In cui entrerete in questo gioco Sarete già facendo pvp Perché In questo gioco C'è da spiegare Che ci sono due fazioni Ovvero Valorian E Darion Queste due fazioni Sono in guerra Costantemente Si combattono tra di loro Si combattono tra di loro E all'inizio potete scegliere Se essere o Darion o Valore Non cambia niente come forza Cambiano solo i vestiti Il modo di vestirsi Delle armature Non cambiano Non cambiano gli oggetti Nel senso se L'armatura a livello 1 Protegge 10 L'altra armatura Proteggerà 10 Non cambiano le statistiche Delle armature Delle armi Sono uguali Cambiano solo Il modello E come stavo dicendo Ehm Diciamo che c'è questo pvp costante In quanto Appena entrate dal gioco Che siete a livello 1 Che siete a livello 140 Mi pare l'ultimo aggiornamento Siete costantemente In guerra Perché Se viene un Se voi siete Darion Per esempio Di livello 1 Se arriva un Valorian Di livello 10 A invadere la vostra città Che voi siate Livello 1 Livello 2 Livello 3 Morite Quello vi attacca Vi può attaccare tranquillamente Quindi questo è bello Perché sei in pvp costante Mentre negli altri Bisogna cercarci Cercarlo del pvp Ovvero duellare A vicenda Noi qui Saremo in costante pvp Il gioco è basato Su missioni E documenti Documenti perché Sono Verremo trasportati In una mappa Dove saremo In guerra In guerra Con l'altra fazione Ovvero Se siete Darion I Valorian Qui ci sono Delle aree Dove spanano Molti mostri Che ti faranno fare Molta molta esperienza Ti faranno salire Molto velocemente Di livello Perché c'è anche L'altra fazione Perché ci sarà Una guerra di documento Ovvero Spawneranno In un determinato punto Della mappa Due guardiani Ovvero Un guardiano Darion E un guardiano Valorian Chi prima Delle due squadre Entro un tempo limite Riuscirà A uccidere Il guardiano Della squadra Opposta Avrà il diritto A esperienza doppia Probabilità di luttare Buoni oggetti Dai mostri E quindi C'è questa sorta Di scontro Per accapararsi Questa esperienza doppia E la probabilità Di luttare Buoni oggetti Il gioco È estremamente difficile Per chi Voglia giocarci Senza spendere Un minimo di soldi Però Non è impossibile Ma fattibile Perché comunque Se farmando Molto molto tempo E nerdando un po' Comunque I soldi si fanno Per esempio Ora vi faccio vedere Queste due tipo di armature Vedete questo blu C'è un Un determinato Upgrade Per le armature Che si colorano Dopo un determinato Numero di volte Che si uppano Per esempio Questa armatura Per esempio Più 20 potrebbe essere Potrebbe costare Sui 250 ori Esempio Però Considerando che fare soldi Dai mostri È molto difficile È molto lenta la cosa Nerdando si può fare Quindi Tranquilli La cosa che mi piaceva di più Queste armature colorate Che sono bellissime Minchia Mi fanno proprio impazzire Non solo ce ne sono Di diverse tipo Questo è quello blu Ci sta quella magma Quella rosta Quella viola e nera Quella fulmine Bellissime Cose bellissime Come sempre Ci sono le boss ride I boss ride Dove usciranno Un boss fortissimo Quanto si faranno Le battaglie Dove si chiameranno Molte gilde A combattere Questo boss Che darà ricompense Buone 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 In quanto Sono oggetti Che potrebbero essere Acquistati Con i soldi veri E hai la possibilità Di prenderli Facendo questa boss ride Ogni sera Ci saranno le battaglie Per i territori Ovvero Partecipando Alle battaglie Con i territori Si dovrà O difendere O attaccare Un territorio Che o sia in possesso Oppure bisogna conquistare Si voglia conquistare Conquistandolo O difendendolo Si riceveranno Dei punti E dei crediti Se uccidiamo Dei nemici Che potranno essere spesi Poi per comprare Determinate robe E niente Questo è tutto Questi sono i tre giochi Che mi avviso Sono molto molto belli E fatemi sapere la vostra Se ne avete provate alcuni Se vi piacciono Questi che vi ho elencato Se avete Se li volete provare Adesso E qualche consiglio Se ho saltato qualcosa Perché ne ho saltate Miliardi di cose da dire Su questi tre giochi Le ho voluti riassumere Proprio così Veloce veloce Per poter appunto Darvi un'idea Di quello che sono Questi tre giochi Detto questo Ci vediamo da Diodino E al prossimo video